Il Festival del Wellness vuole essere un contenitore che potrebbe essere associato quasi a un grembo materno. Quindi un luogo di rinascita. Ed è giusto che venga anche rivalutata in questa la figura proprio della madre terra, non solo come agricoltura, come benessere, come fonte di produzione, di nascita per tutto ciò che è creato. Chi è meglio di una donna che è comunque creatrice sa che usando le cose in un certo modo si possono fare grandi cose. E quindi io sono dell'idea che si possano rigenerare in profondità alcune tematiche e alcuni aspetti della vita personale e da questo si possano fare anche grandi passi in avanti per la collettività.